Nuovo DPCM, nuove restrizioni. Con le disposizioni del governo che pongono le marche in zona gialla, la stretta non è così forte come accaduto altrove. Tra le varie disposizioni c'è anche quella che recita che nelle giornate festive e prefestive è disposta la chiusura di medie e grandi strutture di vendita, nonché di negozi ed esercizi presenti all'interno dei centri commerciali dei mercati, ad eccezione di alimentari, farmacie, edicole ed altro. Ma in realtà in questa dicitura c'è un errore. Un provvedimento che ha generato confusione sia tra i commercianti che tra i clienti, ma andiamo a capire perché. Che cosa è successo? Da che cosa è stata generata tutta questa confusione? Noi all'inizio pensavamo di rimanere chiusi, vista la prima bozza che era uscita del DPCM, quindi pensavamo di rimanere chiusi nei weekend, invece poi dall'ultima stesura e dall'uscita abbiamo capito invece di rimanere aperti con orario regolare, sabato e domenica, dalle 9 alle 20, così come noi siamo aperti già da questo weekend, tutti gli altri punti vendita rimarranno aperti del parco qui insomma dove ci troviamo in questo momento. E' da ieri pomeriggio insomma che i clienti chiamano assiduamente un'ottantina più o meno da ieri sera, stamattina per sapere insomma se eravamo aperti. Le medie strutture ed i negozi che dalla bozza del DPCM circolata tramite i media prima che quest'ultimo uscisse in maniera ufficiale sembrava dovessero rimanere chiusi in zona gialla, ma sono stati depennati dal provvedimento e quindi rimangono aperti anche nei weekend in totale sicurezza. State tranquilli, potete venire in totale sicurezza, abbiamo gel, mascherine, distanze di sicurezza come sappiamo le dobbiamo mantenere ma è tutto regolare.